ah ecco perchè io l'ho messo a capire che hanno fatto hanno messo i cosi, hanno messo i cosi, hanno messo i cosi stupiti a giro hai capito perchè ho detto che scendiamo? che hanno messo i cerchi a questo e hanno messo a sparare da tutta parte fu che pericoloso ah perchè hanno messo i morti, hanno messo i morti non hanno messo il ritorno, perciò basta il petto no chi sta cadendo non c'è la buona l'ho brutto posto chi sta cadendo vega, chi sta cadendo vega qui lo per un' A presto. E' un'altra jacca! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.